anche oggi ho deciso di parlarvi di un libro come ho fatto settimana scorsa perché è un libro che tratta di un luogo dell'immaginario della divulgazione scientifica e cioè il viaggio all'interno del corpo umano luogo letterario che ha avuto molte espressioni pensiamo al viaggio allucinante del 1966 un film dove c'è questo sottomarino miniaturizzato che entra dentro il corpo umano oppure pensiamo a un cartone animato a cui io sono affezionatissimo che è proprio un cartone animato francese su che cos'è la vita e che spiega benissimo con bellissimi disegni molto semplici il funzionamento dei meccanismi fisiologici fondamentali del corpo umano lo faccio vedere ancora adesso i miei figli quindi passa nelle passano le generazioni il libro è scritto da uno che di viaggi peraltro se ne intende ed è bill bryson che è l'autore di un best seller internazionale che fece scalpore perché ha venduto veramente una quantità incredibile di copie che era breve storia di quasi tutto sorprendente perché non è un libro generalista ma non era un libro generalista ma era un libro che parlava un po un po di tutto della storia dell'universo della terra e quindi che su un tema così vasto potesse cogliere tutta questa attenzione è stato molto particolare lo si deve in qualche modo spiegare adesso questo libro è breve storia del corpo umano ed è di nuovo una grande narrazione nella quale si entra dentro tutti i vari sistemi del corpo umano nella respirazione nel metabolismo nel sistema immunitario fino a tutti i sistemi insomma il cervello è bellissimo il capitolo sul cervello c'è un capitolo sul cancro dove si descrive questa dinamica di ribellione interna delle cellule contro se stesse contro il corpo c'è un capitolo molto bello sul microbiota quindi sul fatto che abbiamo una popolazione di migliaia di specie batteriche di funghi di virus all'interno del nostro corpo e così via l'idea è proprio quella di esplorare i vari distretti del nostro corpo come se ciascuno fosse un ecosistema complicatissimo e quindi veramente ci si fa accompagnare per centinaia e centinaia di pagine alla fine non so se ho capito davvero il segreto del successo di questi libri però ho provato perché me l'hanno chiesto a intervistare Bill Bryson e non ci sono riuscito perché praticamente non mi ha detto niente io ho provato a chiedergli un po' di cosa lui mi diceva no guarda è già tutto nel libro perché io non so niente di quelle cose però ho intervistato un sacco di scienziati ho girato sono andato nelle università nei centri di ricerca e non ho fatto altro che raccontare quello che loro mi avevano detto in realtà non è così perché lui ha una scrittura notevole insomma trova la metafora giusta trova il racconto al momento giusto però forse c'è qualcosa di vero in questo il successo di libri di divulgazione come quelli di Bryson è la postura cioè lui implicitamente sembra dire al lettore guarda io ne so tanto quanto te però sono curioso proprio come te che mi stai leggendo allora seguimi che facciamo un viaggio insieme andiamo a intervistare i migliori esperti di questo campo e insieme impariamo e tra l'altro impariamo anche quanto non sappiamo perché Bryson sottolinea moltissimo questo tema del fatto che persino sul corpo umano che è qui uno penserebbe sappiamo tutto in realtà fa vedere quante cose ancora non abbiamo capito e non sappiamo sul funzionamento di un sistema ad altissima complessità come il nostro corpo e per dire solo con un esempio quanto poi è bravo Bryson a cogliere l'attenzione con lo stile e con le storie inizia in modo folgorante questo breve breve storia del corpo umano con il calcolo di quanti elementi chimici ci sono nel corpo umano e pare che siano 59 non ho controllato ma è quello che dice lui e ci sono le fonti citate e calcola quanto ci vorrebbe a comprarli in un negozio ordinandoli una ferramenta in un negozio dove ci sono gli elementi chimici e viene fuori un conto di circa 200 sterline perché alla fine comprando il carbonio l'acqua e tutto quello che di cui è composto il ferro zinco eccetera di cui è composto il nostro corpo fosforo eccetera viene fuori 200 sterline è una bella trovata perché ti fa capire come in fondo noi siamo composti da elementi che sono diffusi nell'universo quindi siamo polvere di stelle che di per sé presi ciascuno uno per uno costano poco e non sono quasi niente ma che messi insieme quando entrano in relazione ed essendo il frutto di un'evoluzione come il caso il nostro corpo durata milioni di anni sono capaci quei 59 elementi in proporzioni diverse di costruire una macchina complessissima un ecosistema di ecosistemi qual è il nostro corpo ecco questo è un esempio di scrittura scientifica di successo perché con un esempio semplice che tu puoi verificare in ferramenta ti fa capire la differenza tra gli elementi di un sistema complesso e la meraviglia di un sistema estremamente complicato ed evoluto come il corpo umano per quanto imperfetto perché poi il bryson ci fa vedere quanto imperfezioni rendono creativo e sorprendente il nostro corpo